Buongiorno, abbiamo oggi con noi finalmente in studio Pietro Ratto. Molti di noi lo conoscono per le sue narrazioni sulla scuola, nell'intervista andata in onda su bioblu.com, ma oggi è qua, per parlarci di questo, i Rothschild e gli altri. Dal governo del mondo all'indevitamento delle nazioni, i segreti delle famiglie più potenti. Pietro Ratto, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. Sì. Allora, senti, ma quando si dice Rothschild, è una parola da complottisti o c'è una storia che si può fare in maniera rigorosa dietro? C'è scritto un libro, quindi mi immagino che sia così. Ce la vuoi raccontare? Ecco, questo è esattamente il problema e il dubbio che mi sono posto. Da quando, dopo aver aperto il sito Incontro Storia, ho deciso di occuparmi di questa cosa perché riempiva letteralmente internet, ci sono migliaia e migliaia di pagine in cui questa famiglia viene demonizzata, accostata a chissà quali forme di satanismo, di perversione, eccetera. Allora mi sono chiesto se avesse un fondamento storico e questo è un po' sempre ciò che io mi ripropongo di sondare. Il risultato è stato che i documenti ci sono, ce ne sono moltissimi che attestano la presenza costante e determinante di questa dinastia all'interno degli eventi storici importanti e meno importanti diciamo dalla metà del Settecento, la fine del Settecento fino a oggi. E quindi l'idea era proprio quella, cioè dimostrare, però nello stesso momento vagliando, distinguendo ciò che può essere frutto di leggenda o davvero complottistico da ciò che è effettivamente dimostrabile da un punto di vista storico e quindi scrivendoci su Lì per Lì un lungo articolo su Incontro Storia e poi successivamente pubblicandolo sotto forma di libro. E allora quale storia racconti sul tuo libro? Allora racconto la storia di una dinastia che parte in tono minore nel 1744, il 23 di febbraio quando nasce Meyer Amschel Rothschild nella Judengasse, nella via principale del ghetto di Francoforte, in una casa che è ancora adesso un monumento storico di questa famiglia, super coccolata e super gestita e ben mantenuta dalla dinastia. Una storia che però prende subito molto velocemente, molto rapidamente un'accelerazione dovuta alla capacità di questo Meyer Amschel che è figlio di un ferramenta e collezionista di monete antiche e impara subito i trucchi dell'economia. Non dimentichiamo che a differenza dei cristiani gli ebrei essendo lasciati, essendo stati lasciati fuori dall'economia agricola, diciamo così, non potendo già dal Medioevo avere dei propri terreni e quindi non potendo esercitare l'attività dei coltivatori e degli agricoltori, eccetera, si erano indirizzati verso altre attività, soprattutto di tipo economico, avendo studiato. Ecco la differenza tra i cristiani che mandavano i loro figli nei campi già a tre anni e gli ebrei che invece li facevano studiare sia i testi sacri, sia i libri scientifici. Ecco, a differenza degli altri, gli ebrei erano molto più colti, molto studiosi, si cimentarono, come è noto, nell'attività del prestito che era vietata ai cristiani per motivi religiosi e teologici e quindi questa loro capacità esercitata e approfondita attraverso l'attività del prestito ad usura, tengo a precisare che l'usura al tempo era il termine con cui si indicava il prestito, quindi non aveva niente di, diciamo, di criminale o di legittimo, ma in questo modo ecco si erano evoluti fino a conoscere molto bene le dinamiche e gli aspetti più profondi dell'economia e questo ragazzo sin da giovane si mette in luce per essere un ottimo consulente finanziario, viene assunto nella banca degli Openheimer che erano banchieri imperiali, il suo nome arriva alle orecchie di Guglielmo IX che era l'angravio di Asia Castle, un principe che aveva parecchi soldi e che voleva investirli e che grazie a lui si arricchisce moltissimo. Questo è il punto di partenza, diciamo, tra i consigli che il giovane Meyer Amschel Rothschild, poi questo non era il cognome effettivo perché la famiglia si chiamava Bauer e quindi da questo nome si evincono le origini, diciamo, popolari della famiglia stessa, ma Rothschild deriva da un composto di due parole tedesche che starebbe per lo scudo rosso che era l'insegna che si vedeva, che campeggiava all'entrata di questa bottega e, dicevo, Meyer Amschel Rothschild molto presto riesce a potenziare le finanze di questo principe consigliandogli, dicevo, tra le altre cose di investire in eserciti. Guglielmo IX costruì letteralmente un esercito privato molto corposo che poi, diciamo, noleggiò alle grandi monarchie. L'esercito di questo principe, per esempio, militò tra le fila di quello inglese contro gli americani nella guerra di indipendenza americana. Gli inglesi furono sconfitti, ma Guglielmo IX, grazie ai consigli di Meyer Amschel Rothschild, incassò molti soldi per questo noleggio, per esempio. Quindi comincia questa storia con la storia bellica della vendita di armi, una storia di vendita di armi, sostanzialmente armi, munizioni, equipaggiamenti, affianziamento delle campagne belliche. Sì, diciamo soprattutto uomini, cioè eserciti, diciamo, affittati, in affitto alle grandi monarchie. Questo comportò una certa mole di guadagni che dovettero essere reinvestiti e nel frattempo Meyer Amschel Rothschild crebbe, si sposò con Guttleschnapper, che era anch'essa una, diciamo, rampolla di una dinastia molto antica ebraica. Tengo a precisare che i Rothschild nascono da un collegamento, da un legame tra due importantissime dinastie molto antiche ebree, che sono quella degli Worms e quella, il nome qualcosa ti dirà, gli Elkan. E quindi i Rothschild nascono da questo connubio che era nato, che si era verificato nel XVI secolo, e appunto con questo matrimonio Meyer Amschel potenzia la sua, insomma, la sua capacità finanziaria e mette alla luce dieci figli, cinque femmine e cinque maschi, e i cinque maschi saranno poi i titolari delle cinque filiali che Meyer Amschel costruirà nelle principali capitali europee, andando a infilare alla direzione di unione di queste capitali uno dei suoi figlioli. Quindi, insomma, la dinastia dei Bacchieri continua? Continua direi che comincia così. Tra l'altro io, dunque, per poter essere il più possibile legato ad aspetti storici e storiografici ben chiari e dimostrati, ho seguito, ho studiato a lungo le biografie ufficiali, soprattutto quella di Lothman, autorizzate dalla dinastia, dalla famiglia. Ed è interessante perché, a mio parere, la biografia di Lothman lascia tra le righe determinati aspetti che non approfondisce, ma che costituiscono quasi dei suggerimenti per il lettore che voglia provare a approfondire da solo. È come se certe cose Lothman, essendo sotto gli occhi dei riflettori, non potesse dirle e quindi però lì apre degli spiragli. Quali spiragli? Nel senso che non riesco a fare un esempio particolare, ma molto spesso, un esempio sì, per esempio è famosissima la questione di Napoleone della battaglia di Waterloo, che si dica, è il, che si voglia dire, è quindi lo scontro tra inglesi, tra il duca di Wellington che guidava le truppe inglesi e quella, e quelle napoleoniche, che come effettivamente risulta furono entrambe finanziate dalle due filiali, una inglese e una francese della banca Rothschild. Significa che la banca francese Rothschild, di cui era proprietario il figlio di Meyer Amschel il più potente, cioè James, James è un soprannome, Jacob Rothschild, finanziò le operazioni francesi, la banca Rothschild inglese, di Nathan Rothschild, finanziò quelle inglesi, poi in realtà che uno abbia vinto e uno abbia perso non importa perché Napoleone perde, ma i francesi devono ripagare il debito di guerra agli inglesi e contraggono un secondo prestito nei confronti dei Rothschild, mentre gli inglesi hanno da restituire i soldi che hanno ricevuto dai Rothschild inglesi. Quindi è questa la grande idea iniziale, quella di finanziare entrambe le parti in gioco vincendo comunque che per da uno o per dall'altro i Rothschild vincono sempre. Pazzesco! Sì. Questa è una delle grandi idee del padre Meyer Amschel. Ma aggiungo questo, il Lothman, ecco un'altra, ecco, si parlava degli spiragli, il Lothman mette una serie di spiragli su questi punti, compreso la famosa circostanza per cui non solo i Rothschild guadagnarono in questo modo, ma posizionandosi strategicamente al di sopra del campo di battaglia riuscirono a conoscere per primi il risultato e quindi lo utilizzarono per, tra virgolette, oggi si direbbe giocare in borsa e ottenere ancora più guadagni. Questo è uno spiraglio che lui dà anche se lascia a chi vuole controllare la possibilità di farlo senza dirlo spudoratamente. Ma un altro, interessantissimo secondo me, è quello delle cinque figlie, perché Lothman dice delle cinque figlie non abbiamo neanche il nome, tanto erano importanti maschi rispetto alle femmine. La cosa è assolutamente falsa, è falsa perché cominciando ad andare a cercare nelle varie genealogie i nomi si trovano tutti e qual è il problema? Qual è il motivo per cui non dobbiamo sapere i nomi o ufficialmente non si sanno i nomi? Il motivo è che le cinque figlie vengono utilizzate, tra virgolette, dal papà per stabilire delle dinastie, degli matrimoni dinastici con altrettante famiglie importanti, per esempio il caso di Henriette Rothschild che sposa un Montefiore e da questa alleanza tra la famiglia Rothschild e la famiglia Montefiore verrà fuori uno dei più grandi gruppi assicurativi del mondo, Allianz. Ecco, questo è un esempio di come, qual era la questione? Che il vero modo, il modo più autentico e efficace per poter potenziare la dinastia e il patrimonio di famiglia era quello di sposare le figlie a altri rampolli di dinastie potenti. In questo modo si perdeva il cognome Rothschild, perché solo in rarissimi casi e molto dopo, e nelle generazioni successive, si mantenne anche nei matrimoni di femmine il doppio cognome. Ma lì per lì si perdeva il nome Rothschild e quindi dava meno nell'occhio il fatto che per esempio quella determinata banca fosse dei Montefiore e non dei Rothschild, come invece era proprio dovuto, essendo dovuto questo, al matrimonio dinastico. Quindi non soltanto c'è la dinastia ufficiale che mette i suoi rampolli nelle banche e quelli hanno il marchio Rothschild, ma ci sono anche le femmine che, tra virgolette, in forma anonima continuano perché poi i soldi arrivano sempre da lì e quindi riescono a costruire imperi diciamo sotto mentite spoglie. Assolutamente. Direi che forse questa sia la forza maggiore, quella delle alleanze matrimoniali. Se questo mi ho scritto ha un merito, diciamo di tipo più esclusivo, questo è dovuto al fatto che sono andato a studiarmi, ed è stato un lavoro piuttosto complesso, le genealogie in parte sono censurate, quindi non è così facile, che ricollegano la famiglia Rothschild alle altre famiglie. Per esempio su internet tutti sostengono che i Rockefeller e i Rothschild siano parenti, ma nessuno, si siano imparentati fra loro, ma nessuno ha mai dato la prova, io ci sono riuscito. Perché poi spesso queste alleanze matrimoniali passano attraverso matrimoni intermedi con famiglie che fanno, diciamo, come nel caso dei Goldschmidt, fanno da trè d'union tra due famiglie diverse, tra due dinastie diverse, diciamo in questo modo, dando un po' meno nell'occhio. Ma la cosa incredibile è che queste grandi alleanze matrimoniali si verificano nella gran parte, nella seconda metà dell'Ottocento, dando luogo a una vera e propria emergenza finanziaria, nel senso che, non voglio certo scusare o giustificare Hitler, ma questa preoccupazione di una Germania stracciata, distrutta dai trattati di Versailles, umiliata, impoverita al massimo, con un debito talmente grosso in cui queste famiglie c'entrano e come? Tale da gestito dai francesi apposta per far sì che i tedeschi non si risollevassero mai più, peccato, tra virgolette, denunciato dallo stesso Keynes in fase di discussione di queste trattative. In realtà queste alleanze così forti, portarono a una situazione in cui poche famiglie particolarmente potenti e ricche e quasi tutte di matrice, diciamo, di origine ebraica avevano in mano il patrimonio, il grosso del patrimonio economico europeo. E adesso la situazione è molto diversa? Allora la situazione io ritengo che sia molto peggiore, ma perché poi c'è stato lo sbarco in America e i Rothschild, soprattutto in seguito alla seconda guerra mondiale, che provocò una forma di persecuzione anche nei confronti, anche se a livello più soft, nei confronti delle dinastie ebraiche più potenti, fece sì che i Rothschild si cercassero dei prestanomi per intestare provvisoriamente le loro aziende, le loro banche, eccetera. Ha appunto dei prestanomi di religione cristiana così da non farsi soffiare il loro patrimonio così come prevedevano le leggi di Hitler. Ma con questo tipo di situazione si misero, dopo aver messo al sicuro in questo modo le loro aziende, si misero al sicuro fisicamente spostandosi in America e spostarono lì il centro dei loro affari e del loro potere, conquistando letteralmente l'America e in questo momento è chiaro che il polo Rothschild e il grosso è a sede lì, a sede negli Stati Uniti. Quindi dopo questi cinque figli che sono andati a fare i direttori di cinque filiali bancarie, dopo le cinque figli che si sono imparentate con il Montefiore, eccetera, 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 come continua la storia? Continua con, per esempio, su 18 matrimoni dei nipoti, 16 sono fra di loro, perché una volta vanno un po' a seconda della situazione e ci sono generazioni che sono chiamate a imparentarsi fra loro per riconsolidare il patrimonio e generazioni che sono invece chiamate ad estendersi, diciamo, mischiandosi, diciamo, con altre dinastie. Però sì, la faccenda è cresciuta molto, tutti gli eventi più importanti, soprattutto di tipo militare, ma non solo, hanno avuto i finanziamenti Rothschild, che significa prestiti che poi non si riesce a restituire e molto spesso per poterli restituire si contrae un secondo prestito. Vorrei chiarire. Allora, le banche finanziarono i re da molto prima, ricordiamo i Fugger con l'imperatore Carlo V, i quali, Fugger, diedero all'imperatore una mole di denaro talmente grande da non permettere più a lui di riuscire a restituirlo, ma condonarono il debito. Perché? Perché è così fruttuoso prestare denaro ai re? Perché c'è una garanzia importante. Il re si rivale, può battere moneta, e si rivale attraverso l'imposizione fiscale sui cittadini, sono i cittadini che pagano il debito in qualche modo, finché si riesce, finché si può. Questa fu l'idea che rese ricchi i peruzzi, i medici che addirittura gestivano le decime della chiesa, oltre che tutti i proventi delle indulgenze. Questo ti fa pensare a quanto stesse sulle palle ai medici uno come Lutero, che sganciò tutto quel mercato tedesco dal resto del sistema finanziario. Ma questa era un'idea sicuramente vincente, ma i Rothschild fecero di più. Riuscirono ad avere la vera idea geniale, che non è solo quella di prestare al ricco o al re sapendo che in questo modo è più facile che restituisca, e sapendo che puoi fissare delle garanzie sul prestito tali da poter ottenere delle ricchezze in più notevoli. Ma i Rothschild chiesero, cominciarono a chiedere, questa ripeto è l'idea nuovissima, in cambio, come garanzia in cambio di un prestito, la gestione del sistema finanziario del paese. Questo è il grande. Da lì nascono le banche centrali che dal momento stesso in cui nascono sono già private. Spieghiamolo meglio che questo passaggio mi sembra veramente interessante. Questo passaggio è fondamentale. Fino ai Rothschild i grandi banchieri prestavano soldi, prestavano denaro ai re, sapendo che molto più che le persone, diciamo, meno ricche avrebbero avuto la possibilità di restituire. I Rothschild cominciarono a chiedere come garanzie la gestione del sistema fiscale di uno Stato. Per esempio, che ne so, la gestione del debito pubblico. Gli Stati, nel momento in cui emettevano dei titoli, chiedevano ai Rothschild, davano delle cartelle da 100 franchi, per esempio, venivano vendute ai Rothschild a 90 e ai Rothschild le mettevano sul mercato, per i vari risparmiatori, a 95. Incassavano subito 5 franchi per ogni cartella. Ecco, in questo modo, gestendo la finanza pubblica, ai Rothschild diventarono potentissimi e quando poi furono pronti, riuscirono a tenere in mano direttamente degli Stati. Un esempio fra tutti che è sconvolgente e che normalmente, come al solito, non si racconta nei libri di storia. E faccio ancora un inciso e lo scrivo nella quarta di copertina. Il nome dei Rothschild non compare in nessun libro di storia dei nostri studenti, eppure nessuna famiglia è stata così determinante per tutti gli avvenimenti degli ultimi tre secoli. Questo ti dà l'idea, no? Nell'era dei social in cui, in realtà, avere più amici e più seguito sembra significare avere più potere, più fama, in realtà è l'opposto. Chi veramente conta non si conosce, non si sa chi sia. Spesso fanno degli articoli sui miei libri e quando parlano dei Rothschild non sanno neanche scrivere il nome. E stiamo parlando della famiglia che assolutamente ci gestisce, gestisce la nostra vita a tutti i livelli. Ecco, dicevo, un evento come, per esempio, quello della fine della guerra franco-prussiana. Ricordiamo, è la madre di tutte le guerre, perché è l'origine poi della prima e quindi della seconda guerra mondiale. Ma alla fine della guerra franco-prussiana, nel 1871, la Francia è invasa ed è totalmente in mano i tedeschi che banchettano a Versailles, hanno, Bismarck ha in mano tutti i palazzi più importanti, addirittura l'unificazione della Germania viene celebrata a Parigi, a Versailles, e quindi, insomma, i tedeschi stanno facendo quello che vogliono, spadroneggiano sul territorio francese. Bene, a un certo punto i tedeschi dicono andiamo via, ma andiamo via se ci pagate, perché la gente non lo sa, ma le guerre hanno sempre poi un esito che è sempre finanziario, chi perde paga, chi vince impone la sua moneta e cose del genere. Allora, Bismarck dice andiamo via, se ci date 200 milioni di franchi andiamo via da Parigi, ma se ci date, l'Iperlieva ha chiesto qualcosa, se non ricordo male, come 35 miliardi di franchi, poi si mettono d'accordo su 5 miliardi, se ci date 5 miliardi di franchi liberiamo l'intero territorio e ce ne andiamo. la Francia non aveva questi soldi, per giunta il re scaccomatto era stato, Napoleone III era stato addirittura catturato dai tedeschi, era prigioniero, quindi non c'era nemmeno un re, una monarchia che potesse gestire la cosa. La Francia non aveva i soldi da consegnare a Bismarck e ai tedeschi per sgomberare, ma i Rothschild sì, e quindi i Rothschild arrivano, tirano fuori gli assegni, stabiliscono un pagamento a rate e da quel momento in avanti la Francia è in mano ai Rothschild, perché sono i Rothschild ad averla salvata e in qualche modo ad averla ricomprata ai tedeschi. Questo è un esempio eclatante che non viene mai preso in considerazione ed è l'esempio caratteristico di come funzioni poi la gestione di una banca che è pur sempre privata, di una banca nazionale, di una banca centrale rispetto alla nazione di cui amministra l'economia. Che poi alla fine mi viene in mente il meccanismo odierno degli specialisti del debito. Sai chi sono gli specialisti del debito? Che sono quelle grandissime banche d'affari che hanno il diritto di comprare i titoli di Stato quando lo Stato emette i titoli appunto. Li possono comprare solo loro e possono rivenderli poi alle banche più piccole e da qui poi ai singoli risparmiatori. Quindi lo Stato ancora oggi deve vendere agli specialisti del debito chiamati così ma in realtà le grandissime, i grandissimi poli industriali delle grandi banche finanziari che solo loro hanno il diritto di... Quindi probabilmente deriva questo meccanismo da quello che hai scritto storicamente tu. Sono loro, sono assolutamente loro. Tieni presente che laddove è non facilissimo ma insomma possibile dimostrare la partecipazione, il coinvolgimento, anzi la direzione insomma dei Rothschild rispetto agli avvenimenti storici degli ultimi, diciamo del 7-800. Quando ci si avventura nel 900 e soprattutto quando si comincia a parlare di oggi la questione diventa impossibile perché con questo meccanismo per cui non c'è più un nome che possa figurare come proprietario di un'azienda ma sono sempre aziende che hanno in mano altre aziende e l'azienda ha un tot di azioni dell'azienda B e controlla l'azienda B ma l'azienda B nello stesso momento ha azioni dell'azienda A e controlla l'azienda A in una situazione di tale impossibilità di compressione che la stessa finanza non ci capisce niente e il risultato è che la situazione attuale è difficilissima da gestire, da comprendere chiedo scusa, è difficilissima la comprende. Vabbè poi noi se sbagliamo a fare la dichiarazione dei redditi finiamo in galera però questo è un altro discorso populista. Certo, certo e via di seguito ci sono tantissimi esempi, un esempio eclatante è quello relativo alla nascita della Federal Reserve perché il famoso crollo della Borsa del 29 aveva già avuto delle anticipazioni notevolissime e nel 1910 c'era stato un crollo già notevole salvato tra virgolette dalla famiglia Morgan perché poi questo libro si intitola i Rothschild e gli altri perché la prima parte dedicata alla storia dei Rothschild e poi come una specie di enciclopedia delle dinastie più potenti ci sono i nomi della storia in breve delle altre più importanti e non tutte dinastie collegate e imparentate con questa e c'è una bella immagine in cui ci sono le reti di tutti i collegamenti con tutte le date dei matrimoni e si capisce, si ha un'idea di insieme abbastanza notevole. Ma per esempio quando proprio nel 1910 a Jekyll Island c'è una importante riunione tra tutti i principali banchieri americani e quindi ci sono i Warburg, ci sono i Warburg si diceva in tedesco. Faccio l'inciso, i Warburg sono quelli che finanziarino il progetto Pan Europa di Calergi, un collegamento anche con la nascita degli Stati Uniti d'Europa. E non solo, sono i proprietari della IG Farben, quella che gestiva, in cui lavoravano gratuitamente gli ebrei del campo di concentramento di Auschwitz, cioè parliamo di una famiglia ebrea che gestiva un enorme colosso chimico, che poi diventerà una delle parti della Bayer, sempre di proprietà di questa famiglia, gestiva questa grande azienda chimica vicino ad Auschwitz beneficiando della manodopera gratuita dei prigionieri ebrei di Auschwitz, questo dà un'idea. Tra l'altro azienda che nel periodo in cui appunto c'era lo smantellamento delle aziende da parte degli ebrei che rischiavano di dover consegnare tutto a Hitler, aveva utilizzato come prestanome ed era stata gestita per un certo periodo dai Rockefeller. Dunque gli americani di Rockefeller gestivano la fabbrica in cui ad Auschwitz gli ebrei andavano a lavorare gratuitamente. Si si può credere, ci sono dei conflitti di interesse. Queste sono questioni, ma d'altra parte Hitler che bombardava Londra con le bombe della Ford americana. Allora il discorso qual è? Che un conto è parlare di leggende, ma qui c'è una commissione ben precisa, la commissione Puyo che, e ci sono i verbali assolutamente sotto gli occhi di tutti, consultabilissimi, in cui si denuncia un gigantesco conflitto di interessi, si denuncia che il grosso del patrimonio nazionale americano è nelle mani di pochissimi banchieri privati e questi sono quelli che a Jekyll Island si riuniscono e proprio in virtù della grave situazione, del grave rischio di tracollo finanziario che sta vivendo l'America in quegli anni, progettano questa Federal Reserve. C'è un problema che tre di loro, tre banchieri di loro, sono contrari alla nascita di una banca centrale privata, perché sono convinti che la banca centrale debba essere dello Stato. È il motivo per cui, per esempio, è scoppiata la guerra americana, l'indipendenza americana, altro che il tè. Gli americani volevano una sovranità monetaria, volevano una propria moneta di Stato staccandosi da quella inglese, e questa è la verità. E allora cosa accade? Si riuniscono questi tre banchieri, sono contrari all'idea, dicevo, di una banca, una Federal Reserve, una banca centrale in mano ai privati, sono gli unici tre che votano contro? E beh, due anni dopo sono i tre banchieri che muoiono sul Titanic. E nel 1912 si verifica quel terribile incidente che tra l'altro funziona esattamente come descritto per una serie di parametri e di coincidenze, compreso il nome del transatlantico, esattamente come descritto in un romanzo della fine dell'Ottocento, del 1898. Tutto va in qualche modo, oserei dire, da copione, adesso faccio proprio il complottista, ma nel 1912 questo transatlantico finisce contro quel famoso, con quell'iceberg, e muoiono i tre che erano oppositori di questa banca privata. L'anno successivo, il 1913, nasce incontrastata e privata la Federal Reserve. Quindi diciamo, un iceberg controllato dai rocci. No, io non posso arrivare, però sono quelle coincidenze, poi voglio dire... Vabbè, diciamo, non spingiamoci più, perché già questo blog è touchato, adesso la teoria dell'iceberg e cospirazionista no. Però è una curiosa coincidenza. Questa teoria è stata, per esempio, è stata presa in considerazione da Focus Storia del marzo del 2017, quindi voglio dire, non è una cosa... E tra l'altro, è lo stesso numero in cui compaio anch'io all'interno di un altro articolo, tra gli studiosi dei Rothschild. Ecco, direi però che c'è anche un altro fatto importante. Questa compagnia del Titanic, che appunto aveva in mano questo e altre grandi imbarcazioni, era di proprietà della famiglia Morgan, imparentata con i Rothschild. E John Pierpont Morgan aveva fissato la suite, la cabina principale super lussuosa del transatlantico, tra l'altro fu un viaggio epocale, le principali famiglie più ricche del mondo si prenotarono una camera per fare questo video. Non mi dire che rinunciò all'ultimo. rinunciò all'ultimo. All'ultimo momento arrivò la disdetta da parte di John Pierpont Morgan e che non salì quindi su quella nave. Va bene, bisogna dirlo a Kate Winslet e a Leonardo DiCaprio che devono riaggiornare il film. Direi di sì, anche se comunque le produzioni... cioè questi signori non hanno in mano le banche, solo hanno in mano le industrie, hanno in mano le compagnie cinematografiche, hanno mani alle case editrici, la Hachette che è una delle più forti al mondo e dei Rothschild, la Person che scrive libri, che praticamente gestisce quasi tutta l'editoria scolastica, è in mano ai Lazard che sono stati a lungo nemici, rivali dei Rothschild che poi ci si sono avvicinati scambiandosi praticamente i presidenti dei consigli di amministrazione. Quindi in questo momento la situazione è gestita in modo egemonico e già in qualche modo un eufemismo e quindi il mio stesso libro, nonostante stia vendendo parecchio, fa molta fatica a finire nei circuiti grossi proprio perché i circuiti grossi, Amazon e dei Morgan, cioè i circuiti grossi sono in mano a queste famiglie. Senti ma con tutti questi soldi, questi Rothschild hanno fatto anche delle opere di bene o soltanto finanziato guerra? Assolutamente sì, intanto è una prassi che normalmente le mogli facessero beneficenza o cose del genere, ma investirono, furono grandi mecenati, investirono in quadri e in opere d'arte, più di 40.000 opere in questo momento all'Uvro sono di proprietà della famiglia Rothschild, quindi quando paghi il biglietto in realtà stai pagando il biglietto a questa famiglia e per esempio la loro bella vita da mecenati che gli storici del tempo, della fine ottocento, criticavano, comunque stigmatizzavano sostenendo che per esempio Jacob Rothschild, cioè James, il capo della filiale francese e il più potente fra i cinque fratelli, fosse più potente, più ricco dello stesso Luigi XVI, di quanto era a suo tempo Luigi XVI e quindi dice se fosse vissuto il tempo di Luigi XVI lo avrebbe direttamente messo in ombra. Ecco dicevo, la moglie di James Rothschild per esempio è dipinta in uno dei più importanti quadri del pittore francese Angret, prendeva lezioni di pianoforte dallo stesso Chopin indirettamente. James Rothschild commissionò molte opere a Rossini, di cui era un estimatore. Il famoso film Monument Man è vero, la storia di questa ricerca delle opere di importanza enorme che Hitler e Goering collezionavano, avevano requisito dal Louvre, è vera, gli americani dovettero approntare una squadra apposta di storici dell'arte ma soldati che andarono a recuperare queste opere. Per esempio, piccola curiosità di cui si parla anche in questo libro, il bellissimo l'astronomo, il quadro di Vermeer, dietro sulla tela ha inciso una piccola svastichetta perché era uno dei preferiti di Hitler e ce l'aveva lì in casa. Ecco, gli americani dovettero recuperarli, erano stati nascosti dai tedeschi in miniere di Salgemma, eccetera. Ma quel film termina appunto in qualche modo lodando questo recupero che portò alla restituzione delle opere al museo di Parigi, ma c'è una frase finale che dice che la gran parte di queste opere facevano parte di una collezione privata. Ecco, la collezione privata non si dice qual era, ma era quella dei Rothschild. E poi magari potremmo occuparci di infrastrutture perché immagino che i soldi si possano anche investire per creare cose. Ecco, una delle prime intuizioni dei Rothschild, inizialmente soltanto interessati all'aspetto economico-finanziario, del prestito e della gestione delle finanze degli stati, fu quello di investire, i primi investimenti furono per esempio nelle ferrovie. I Rothschild ebbero prima degli altri l'intuizione che quello sarebbe stato il grosso affare, non dimentichiamo che siamo alla fine della seconda rivoluzione industriale, è nato il petrolio, ma sono nati i primi motori a scoppio e quindi l'importanza del petrolio è fondamentale, ma nello stesso momento sta impazzando l'idea delle ferrovie e i Rothschild cominciano a coprire l'Europa di ferrovie. Per esempio nei libri di testo nostri a scuola si dice che Cavour coprì il Piemonte di ferrovie, il Piemonte aveva più ferrovie che l'intera nazione, che l'intera penisola italiana, coprì il Piemonte di ferrovie, ma non si sa perché le ricorse a mano d'opera e a capitali e aziende straniere. Sì, ma queste aziende straniere e questi capitali erano dei Rothschild e possiamo anche dire il perché, perché Cavour fa l'Italia contraendo un debito che serve per pagare le varie operazioni militari, contraendo un debito con James Rothschild, con i Rothschild di Francia e siccome il debito era altissimo e Cavour non era in grado di pagarlo, contraste un secondo debito con i Rothschild di Napoli per pagare il primo debito. L'Italia nasce già indebitata con i Rothschild senza essere riuscita più a liberarsene. Ebbene, le ferrovie dei Rothschild coprono l'Italia ma vanno avanti verso Oriente, in tutta l'Europa centro-settentrionale. Si ingaggia per un certo periodo uno scontro tra Rothschild e Pereire, altra famiglia ebrea di origine portoghese, che invece ebbero la cattiva intuizione di costruire le nostre ferrovie ma nel sud Italia, cattiva perché le ferrovie costruite al nord hanno uno sviluppo infinito verso Oriente, quelle al sud terminano col mare e non si può procedere, vennero boicottati e con operazioni di borsa ridotti sull'astrico dai Rothschild e poi i Rothschild continuarono in modo indisturbato la produzione di ferrovie e questo è in realtà di nuovo una cosa che non è mai ben sottolineata, una delle motivazioni della prima guerra mondiale perché quella Serbia in cui si verifica l'attentato di Sarajevo nei confronti dell'erede al trono imperiale Francesco Ferdinando in realtà si era messa contro, si era messa di traverso i propositi dei Rothschild di far passare le ferrovie sul suo territorio per quella famosa Berlino-Baghdad che esiste ormai ma che esiste proprio grazie alla prima guerra mondiale che ha ridimensionato i serbi e nelle trattative di pace ha permesso che alla fine si predisponessero ad accettare questo passaggio. Quindi tutta questa storia che tu hai raccontato dal punto di vista dell'interesse del blogger che spesso ha uno sguardo un po' più economico finanziario sulle dinamiche e le vicende degli stati rileva che gran parte dei guai degli stati da come mi pare semplicisticamente di capire deriva dal fatto che per compiere degli investimenti, per spendere, per pagare pensioni, stipendi o per costruire cose ha bisogno di chiedere dei soldi a qualcuno che in qualche maniera gli ridà a patto che faccia dei favori o gliene restituisca di più. È un meccanismo che noi diamo per scontato oggi perché qualunque giornalone, qualunque commentatore dice no è così questo non si mette in discussione. se lo fai vuol dire che non sei capace di capire, non hai studiato, però è un meccanismo che potrebbe benissimo essere giudicato sbagliato magari un giorno qualora dovessimo capire che effettivamente i soldi sono un servizio, non solo una proprietà di qualcuno ma un servizio che serve a sviluppare i beni della collettività insomma come il sangue nella circolazione di un individuo. Sarebbe curioso se qualcuno dicesse ti do un po' più di sangue se tu me ne dai domani, il sangue mi serve. Ma guarda direi che più che giusto o sbagliato è inevitabile, è questo che la gente non capisce, quando una nazione nasce con i soldi di una famiglia quella nazione deve per forza venire a patti con questa famiglia e deve cominciare ad accettare che il denaro che mette in circolazione sia prestato da questa famiglia, è tutto lì. Cioè quando si dice ma perché i nostri politici sono arrivati, che ne so, al divorzio della Banca d'Italia nei confronti del Ministero del Tesoro, perché si è verificato questa sudditanza della nostra economia a banche private? Ma perché siamo nati con questa sudditanza? Ricordiamoci che noi abbiamo per esempio un debito da pagare nei confronti degli americani e soprattutto delle loro banche in seguito alla liberazione, tra virgolette, degli americani e quel famoso 8 settembre. Questi sono debiti effettivi che non si possono, che non si possono diciamo così estinguere facilmente e che provocano una situazione di sottomissione di una nazione nei confronti delle logiche superiori delle nazioni vincitrici. Non a caso mi sono occupato di Moro e non a caso Moro fu quello che cercò di bloccare questa situazione di forte sudditanza dell'Italia nei confronti dell'America e delle sue banche, attraverso questo discorso della trilateral che abbiamo già affrontato, Moro cercò di evitare una situazione che però era congenita, era in qualche modo connaturata alla nostra stessa nazione. Ecco tu hai toccato un tema molto interessante perché noi che siamo usciti in sconfitti della seconda guerra mondiale abbiamo firmato dei patti in virtù di questa sconfitta. Questi patti mi pare che siano tuttora un segreto di Stato, nel senso che non si possono conoscere. Tu dici che oltre a questi patti abbiamo anche un debito nei confronti delle potenze vincitrici che evidentemente ci hanno messo sul conto le armi o la benzina dei carri armati, non lo so. E questo debito da quale parte della storia si evince che esiste? Ecco appunto di questo debito non ci sono molte tracce proprio perché già solo che ne so l'armistizio di Cassibile che è quello dell'8 settembre, rispetto alle questioni economiche e diciamo di natura più pratica, a parte la questione proprio militare stretta stretta dell'esercito italiano che di colpo diventa agli ordini di quello americano, cioè rimanda nell'articolo 12 a altre considerazioni, accordi che verranno fatti separatamente e che non sono facilmente consultabili. Quindi in realtà gli americani arrivano e in realtà impongono una loro valuta, per esempio una loro moneta tra virgolette di guerra, una moneta di occupazione. Ecco da lì in avanti pensa che ormai ci troviamo poi nella situazione della guerra fredda e quindi noi dobbiamo sottostare a delle logiche che sono quelle della Nato, in cambio c'è questo piano Marshall che ci permette di ricostruire. Ecco la questione del piano Marshall è fondamentale, cioè se tu accetti soldi da qualcuno come unica possibilità per vivere devi fare quello che vuole lui. E non a caso il gran casino scoppia poi dal crollo del muro di Berlino e quindi dall'inizio degli anni 90 quando in realtà cessano i finanziamenti americani perché non c'è più il problema di contrapporsi all'Unione Sovietica. È lì che comincia a mani pulite tutto il disastro, è una situazione di tensione fortissima e la questione del finanziamento ai partiti che diventa un problema enorme perché fino a quel momento era tutto facile grazie a questi soldi americani. Tra l'altro le cinque capitali designate da papà Mayer Amschel in cui va a inserire, spedisce insomma i suoi cinque figli per le rispettive filiali, tra le cinque capitali c'è Napoli, non c'è Torino, non c'è Milano, c'è Napoli. E questo ha dimostrazione del fatto che all'inizio dell'Ottocento e in realtà fino alla presa del regno di Napoli da parte di Garibaldi, Napoli era estremamente più potente e più ricca di Torino. Il patrimonio finanziario del regno di Napoli era 20 volte quello del regno Savaudo e tre quarti dell'intero patrimonio della penisola italica. Questo dà un'idea di nuovo di quante sono le distorsioni che vengono operate nei libri di testo. Per fare un esempio di come la pensassero i Rothschild rispetto all'importanza che avesse il loro prestito nei confronti di un intero Stato e soprattutto che cosa volessero in cambio, ecco ti leggo questa dichiarazione che nel 1830 viene fatta da James Rothschild in occasione della neutralità ottenuta dal Belgio, il Belgio tiene l'indipendenza e poi la neutralità l'anno successivo e James dice spiegando questa cosa ai suoi soci, alla soluzione della questione belga, seguirà una forte richiesta di fondi. Dovremmo approfittare di quel momento per diventare padroni assoluti delle finanze di questo paese. Pietro Ratto, i Rothschild e gli altri che su questo libro immagino ci siano tantissime altre informazioni in più derivanti dalla tua ricerca. Pietro Ratto, grazie per essere stato ospite per l'Evoluto.com. Ci vediamo la prossima volta, tanto ormai sei di famiglia. D'accordo.